Adesso c'è qualcosa che doveva meritare, questo era il Cesare, sicuramente, attraversa, due tiri a botta sicura e ribattuti. Noi il nostro portiere non è mai stato un pieno inserito, abbiamo trovato di fronte una buona squadra, ma oggi sicuramente ai punti dovevamo vincere noi, è stata una bella partita, ma siamo usciti veramente qui, con consapevoli di aver affrontato a viso aperto la prima data classe. Non ha trovato equilibrio in campo, no? Non mi sembra, cioè l'equilibrio c'è stato, ma se c'era una supremazia mi sembrava del Cesare, il nostro portiere oggi in parata non ne ha fatte, loro hanno fatto due, un miracolo sul tiro di De Feldes, una traversa, un colpo a botta sicura di Dobrado, salvataggio in estremis, quindi io penso che Cesena ai punti meritava sicuramente. Poi il Cato, che non fa gol, si finisce con una 0-0, ma poi è stata anche una bella partita.